Cosa sono i circoli di filosofia delle Petites Lumières? Il progetto delle Petites Lumières, ideato nel 2014 da Chiara Pastorini, è quello di accompagnare i bambini e gli adolescenti alla scoperta della filosofia in modo giocoso, unendo la pratica della discussione filosofica con attività artistiche e anche con riferimenti filosofici classici. Ecco come funziona un tipico laboratorio che dura circa un'ora, un'ora e mezzo. Utilizziamo situazioni messe in scena da pupazzi filosofi, questi qua per esempio Cartesio e Spinosa, per invitare i bambini a discutere di un tema o una domanda di filosofia. Proviamo a definire alcuni concetti, ad esempio cos'è la libertà, cosa sono la felicità, l'identità, la solitudine o la dilusione. Se la situazione lo richiede, il workshop può iniziare con una breve sessione di rilassamento. Se si tratta del primo approccio del gruppo alla filosofia, prima di affrontare il tema scelto, la discussione si concentra sulle origini stesse della filosofia e su alcune figure fondamentali, per esempio Platone, Socrate o Aristotele e tanti altri. Durante il laboratorio vengono utilizzati diversi supporti didattici, si leggono brani di storie o libri di filosofia per bambini, si realizzano disegni, pitture e sculture, oppure si fa sentire della musica o si proietta un breve video.